Devo confessare, con tutta la onizia sarà ovviamente molto difficile con un risultato come questo. Sarà ovviamente difficile, giocheremo contro Manchester United con un risultato così e sarà molto molto difficile recuperare questa partita. È stato molto molto difficile perdere questi tre giocatori e non avere la possibilità di fare cambio nel secondo tempo. Non è facile gestire la partita così, abbiamo perso un giocatore importante e ovviamente dopo il primo tempo, anche penso che abbiamo fatto un buon primo tempo quando abbiamo preso il terzo gol, è stato difficile la squadra reagire senza la possibilità di cambiare qualche giocatore. Io penso che è stato decisivo. Penso che l'allenatore di Manchester già ha confessato un gesto molto nobile che non era rigore, per me non è rigore anche. È stato un momento decisivo qui perché abbiamo preso il terzo gol e penso che è stata una decisione che non è accertata.